Ciao Stefano! Ciao a tutti, buonasera e buonasera anche agli operai della GKN che come hai detto conosco bene. Allora io stasera con Rado per l'appunto vi ho portato una storia che è proprio una storia di operai, o meglio di un'operaia, perché stasera io vi racconto quello che accadde otto anni fa in un posto del mondo che è il Bangladesh dove viene prodotta la gran parte dell'industria tessile oggi. Questa operaia si chiama Achila, un giorno arriva sul posto di lavoro, si mette a sedere alla sua postazione e improvvisamente questa mattina stranamente vede qualcosa che le cade sul dorso della mano. Ma che cos'è? Sabbia! Strano, la sabbia cade dal soffitto, alza gli occhi e vede che non è sabbia, è polvere di cemento, perché c'è una crepa là, accanto al neon, proprio sopra la postazione dove lavora ed è una crepa che non ha mai visto perché lei lavora là e tutti i giorni le capita di alzare gli occhi. Allora si alza, va a chiamare il caporeparto e gli dice c'è una crepa là, accanto al neon, lui la guarda e gli dice e tu smetti di lavorare per venire a parlarvi di una crepa sul soffitto, torna a lavorare e ringrazia se non ti faccio rapporto. Achila torna alla sua postazione, si mette a lavorare, passano cinque ore delle dieci e come lei fa ogni giorno, passate cinque ore, toglie dalla bocca la sua gomma da masticare, tira fuori un barattolo dove c'è del riso, apre il riso e comincia a mangiare. Con una mano mangia, con l'altra mano continua a lavorare perché non è prevista la pausa pranzo, là, nella fabbrica che sta in questo edificio agli ultimi piani, ai piani inferiori ci sono banche e negozi. Ecco, è in quel momento, mentre Achila mangia il suo riso e con l'altra mano lavora, che si rende conto che di nuovo la polvere di cemento questa volta ce l'ha fra i denti, per cui alza gli occhi di nuovo e si rende conto che la crepa è ancora più grande, allora si guarda intorno, non c'è nessuno che la guardi, ha un'idea, prende la gomma da masticare, sale in piedi sul tavolo e mette la gomma da masticare dentro la crepa, là, accanto al neon, dicendo almeno se la crepa si allarga me ne renderò conto. Dopo cinque ore è la fine del suo turno, Achila alza gli occhi e vede che la gomma da masticare è già in tensione, è già tirata, tanto la crepa già in sole dieci ore è aumentata, allora torna dal caporeparto e gli dice, guarda che c'è una crepa, lui la interrompe, e le dice, no, senti adesso, basta, ma come io ho messo una gomma da masticare dentro la crepa e, ascolta, ti ho detto basta, torna qua domani a lavorare e se non ti va bene, la porta è quella. La mattina dopo, giù, all'ingresso, fuori dalla fabbrica, le operaie sono tutte là fuori e c'è la più anziana di loro che dice, guardate che ai piani inferiori, nella banca, nei negozi, oggi non lavora nessuno perché hanno detto che l'edificio è a rischio crollo, ma soltanto in quel momento il caporeparto prende un megafono e comincia a dire, la prima di voi che oggi non entra a lavorare avrà un mese intero trattenuto di stipendio e se non vi piace comunque la porta è quella per cui tutte le operaie che non possono permettersi di perdere un mese di stipendio entrano dentro e si portano dietro perfino i bambini perché in quella fabbrica c'era un asino nido fatto per i figli delle operaie. Entrano dentro e appena entrano dentro Achilla si rende conto che il chewing gum che ha messo la sera prima ormai è diventato una specie di ragnatela sul soffitto e non fa tempo a pensare che no non è possibile, non è assolutamente possibile che qualcuno si prenda questo rischio, non fa tempo a pensare questo, che il rumore è assurdante, gigantesco e crolla tutto. È la più grande strage su un posto di lavoro mai avvenuta nella storia dell'umanità, 1129 operai muoiono sotto le macerie del Rana Plaza di Savar. Ed io vi racconto questa storia perché negli ultimi otto anni, negli ultimi otto anni è stato dato un risarcimento, un risarcimento alle vite di queste operaie. È stata una battaglia lunga che si è conclusa, si è conclusa con la quantificazione del risarcimento. Sai quanto Corrado? Dieci centesimi di euro per ora di lavoro. Non so se ci avete mai fatto caso, è dieci centesimi. Io li ho portati, eccoli qua, dieci centesimi. Sono quelle monetine che ti trovi nel portafoglio e dici, maledizione, chi è che mi ha dato il resto con la monetina di dieci centesimi? Non ci compri niente con dieci centesimi, neanche il carrello del supermercato lo puoi sbloccare con una monetina di dieci centesimi, ci vuole quella da 50 o da un euro. Con la monetina da dieci centesimi non ci compri niente, anzi, adesso lo so che cosa ci compri con la monetina da dieci centesimi. Ci compri un'ora di lavoro di un'operaia come Achila. Questo è il risarcimento. Dieci centesimi per un'ora. In quella parte del mondo in cui il lavoro costa niente, costa poco, costa meno che poco, costa dieci centesimi. E costa poco affinché noi, che siamo la parte fortunata del mondo, possiamo permetterci di trovare una maglietta in vendita e dire, accidenti quanto costa poco, e la compriamo. Il problema, il vero problema, è che ci stiamo finendo tutti dentro. Tutti stiamo finendo nel grande tritacarne, compresi noi, il grande tritacarne del lavoro, in cui l'importante è essere competitivi, l'importante è pagare meno, l'importante è comprare a meno, sempre meno, sempre meno, con il risultato che tutto diventa un lusso. I diritti diventano un lusso, la dignità diventa un lusso, la sicurezza diventa un lusso, la manutenzione dei macchinari diventa un lusso. Ma al fin dei conti chi se ne importa? Ma al fin dei conti chi se ne frega? E allora avanti, benvenuti nel terzo millennio, in cui il lavoro di un operaio può costare dieci centesimi e se non ti piace, la porta è quella.